Grazie a tutti. Quali saranno i temi e chi saranno le persone, le maestranze coinvolte in questa sessione? In questa seconda sessione ci saranno una serie di interventi tenuti da sottoscritto e da rappresentanti di alcuni importanti enti gestori di aziende del sistema idrico italiano in cui presenteranno risultati di studi volti a migliorare l'efficienza energetica, a ridurre le perte idriche nelle loro reti di distribuzione idrica. Nel caso specifico, ad esempio, io presenterò i risultati di uno studio che abbiamo condotto in collaborazione con Te Amatova finalizzato proprio alla riduzione delle perte idriche in alcuni distretti della loro reti di distribuzione idrica. Altre esperienze di cui vuoi parlarci? Anticipazioni o anche solo i titoli? Gli altri interventi saranno, come da programma, relativi ad un intervento di ERA e un intervento invece di metropolitana milanese. Le tematiche sono sostanzialmente molto simili, quindi inerenti proprio agli interventi finalizzati a migliorare l'efficienza, l'affidabilità dei sistemi di distribuzione idrica. Grazie.